Buonasera, saluti, ben trovati. Siamo qui in diretta per invitare il pubblico di Positano ad assistere a questo concerto e ci sarà tra breve tempo, tra pochissimi minuti, l'ensemble di Montescagliotto. Buonasera, saluti, ben trovati. Buon fine anno e buon inizio. Ricambiamo con proteine dei ricambi di cuore a tutti quanti che sia un anno di salute e speriamo di serenità perché ne abbiamo tutti e tutti terribilmente bisogno. Il concetto di questa sera è un'orchestra diciamolo su linea di Massimo già conosciuto perché è un concetto di onora alla processione del Venere di Salve. E risentire la banda è qualcosa di piacevole e lo consideriamo anche ben augurante. Soprattutto ben augurante. Buon proseguimento e spero che, sono certo che la serata sarà piacevolissima. Noi vi facciamo i nostri auguri il priore Massimo Fiorentino e aggiungiamo in appendice i complimenti per quella calligrafia. Il priore Massimo Fiorentino confeziona i suoi 300 inviti a mano in una intera notte con una calligrafia che è da connessione. Dottore, lei è Milusinga. Grazie a te. Grazie, grazie e buona serata.